Oggi metterai alla prova il tuo italiano. Faremo un quiz di 10 domande per mettere alla prova la tua conoscenza della lingua italiana. Troverai verbi, parole difficili, espressioni idiomatiche, preposizioni e molto altro. Per chi è nuovo sul canale sono Alberto, il fondatore di Italiano Automatico e su questo canale ogni settimana cerchiamo di darti contenuti interessanti e piacevoli per migliorare il tuo italiano e non solo. Prima di iniziare il quiz voglio specificare che questo quiz è rivolto a tutti coloro che stanno imparando l'italiano ed è fatto per divertimento e non fornisce un livello ufficiale. Ti ricordo che per ogni domanda c'è solo una risposta corretta. Ti lascerò 10 secondi per rispondere ad ogni domanda e poi ti darò la risposta corretta. Mario ha iniziato a studiare l'italiano un anno fa. Fa un anno per un anno. Un anno fa Mario ha iniziato a studiare l'italiano un anno fa. L'anno scorso Sabrina in Italia Il verbo andare in italiano viene accompagnato dal verbo ausiliare essere. La gioconda è stata dipinta da Leonardo da Vinci La preposizione corretta qui è da perché esprime il complemento d'agente Ovvero ci dice chi ha compiuto l'azione Temo che Marta non avvenire alla riunione di domani mattina Riesce Riesca Riesco Riesca Qui ci va il congiuntivo perché nella frase principale abbiamo il verbo temere Quindi dirò Temo che Marta non riesca a venire alla riunione di domani mattina Il mio amico Fabio vive Torino In Su A A La preposizione giusta qui è A perché indica stato e luogo con nomi di città Quindi il mio amico Fabio vive a Torino Ho comprato dei biscotti buonissimi Vuoi assaggiare uno? Ma Ne Ci Ne Qui mettiamo la particella ne per non ripetere la parola biscotti Quindi ho comprato dei biscotti buonissimi Ne vuoi assaggiare uno? Cosa significa cavarsela? Uscire da una situazione difficile Entrare in una situazione difficile Non riuscire a superare una difficoltà Uscire da una situazione difficile Il verbo pronominale cavarsela significa proprio uscire da una situazione difficile Superare una difficoltà e riuscire abbastanza bene in qualcosa Quando gli italiani usano la parola bo Quando vogliono dire sì Quando non sanno rispondere a una domanda Quando vogliono dire no Quando non sanno rispondere a una domanda Diciamo bo ogni volta che non sappiamo la risposta a una domanda Trova un sinonimo dell'espressione essere a pezzi Essere in ritardo Essere triste Se dico sono a pezzi o sono stanco morto Significa che sono molto molto stanco Spero che il tiramisù di mia nonna ti piaciuto È Sia Fosse Sia Con il verbo sperare Dobbiamo usare il congiuntivo Siamo arrivati alla fine del quiz Quindi complimenti Come sei andato? Non preoccuparti se hai fatto degli errori L'obiettivo del quiz non è scoraggiarti Ma è un modo simpatico per capire a che punto è il tuo italiano in generale Sono sicuro che puoi continuare a migliorare il tuo italiano nelle prossime settimane E la chiave, quella che ti ricordo sempre, è che devi circondarti il più possibile di italiano nelle tue giornate Non ci sono scorciatoie Chi vuole solamente memorizzare regole e vocaboli non arriverà lontano nell'apprendimento di una lingua La chiave è passare tempo con la lingua in tutte le sue forme e principalmente ascoltando Fammi sapere nei commenti se contenuti di questo tipo ti possono piacere Io ti mando un forte abbraccio Ti ricordo che trovi sempre anche le 7 regole di italiano automatico nella descrizione Riceverai un pdf, un audio e un video di altissima qualità Che ti aiuterà a capire per sempre il metodo naturale E quindi noi ci vediamo lunedì prossimo E un forte abbraccio Grazie a tutti Grazie a tutti